Buongiorno a tutti, oggi siamo al Forum Ingegneria 4.0 e nel nostro intervento parleremo di realtà aumentata. Entreremo nel mondo della realtà aumentata e racconteremo che cos'è, i suoi vantaggi e come nell'industria è possibile applicarla, utilizzarla e ottenere benefici in termini di miglioramento dei processi produttivi, in termini di efficienza, in termini di sicurezza e di sostenibilità. Immaginiamoci un operatore sul campo, fornito di uno strumento indossabile e dotato di realtà aumentata. Il suo lavoro verrà potenziato, verrà efficientato grazie alla possibilità di avere informazioni in tempo reale, di accedere alla documentazione aziendale e, se ce ne fosse bisogno, di collegarsi con altri esperti da remoto per ottenere supporto in tempo reale e svolgere al meglio il suo lavoro in tutta sicurezza. Approfondiremo poi il tema della sostenibilità, un tema importante e molto sentito in questo periodo. Gli organismi governativi di tutto il mondo stanno spingendo le aziende all'efficientamento dei processi produttivi dal punto di vista del risparmio della CO2. Ecco, immaginiamo che la realtà aumentata permetta di svolgere attività come collaudi, manutenzioni, audit, senza spostare le persone, quindi svolgendo da remoto il proprio lavoro, diminuire il tempo viaggio e di conseguenza ridurre la CO2 e migliorare l'impatto sull'ambiente.